Il grande specchio sopra la credenza riflette la tavola e i commensali riflette il nuovo stemma dei venering in oro e argento lavorati a freddo e a caldo un cammello riprodotto in tutti i modi il collegio araldico infatti ha scoperto un antenato di venering crociato il quale portava sullo scudo un cammello l'avrebbe portato se ci avesse pensato e quindi una intera carvana di cammelli recano sulla groppa frutti, fiori, candele mentre altri si inginocchiano per ricevere carichi di sale lo specchio riflette mister venering 40 anni, bruno, capelli ondulati tendenza alla pinguedine espressione furba, misteriosa, un po' velata una specie di profeta abbastanza di bello aspetto che tiene per sé le proprie profezie riflette Mrs. Fenering bionda, naso acquiglino e dita dunque capelli meno biondi di quanto potrebbero essere gioielli e abiti fastosi entusiasta benevola sa benissimo che un angolo del velo del marito copre anche lei riflette Postneb mentre si nutre abbondantemente testa calva ornata ai lati da due alette irte e scolorite simili più a spazzole che a capelli panorama di foluncoli rossi sparsi sulla fronte e dietro la nuca una grossa porzione di colletto di camicia sgualcito riflette Mrs. Postneb magnifico soggetto per il professor Owen molte ossa, collo e narici da cavallo ad ondolo tratti duri acconciatura maestosa sulla quale il marito ha appeso offerte dorate riflette Twemloff grigio, secco, ben educato sensibile alle correnti d'aria colletto e cravatta alla Giorgio IV guance infossate come se anni fa avesse fatto un grande sforzo per ritirarsi in se stesso e si fosse fermato a quel punto e non fosse mai più andato avanti riflette una signorina matura boccoli corvini colorito abbastanza roseo quando è bene incipriato come ora che fa notevoli progressi nell'arte di accattivarsi un giovanotto maturo dotato di troppo naso sul volto di troppo rosso sulle basette di troppo torace dentro al panciotto di troppo luccichio nei bottoni della camicia e della giacca nella conversazione negli occhi e nei denti riflette la deliziosa vecchia Lady Pins alla destra di Venering facciò un oblungo ottuso e scialbo come rispecchiato in un cucchiaio in cima alla testa un lungo viale fiorito che pare un utile mezzo per avvicinarsi alla ciocca di capelli finti sulla nuca contenta di proteggere Mrs. Venering di fronte a lei la quale è contenta di essere protetta riflette un certo Mortimer un altro vecchissimo amico di Venering non ha mai messo piedi in quella casa prima d'ora mi pare abbia poca voglia di rimettersi lì si è desconsolato a sinistra di Mrs. Venering è stata Lady Pins sua amica d'infanzia a trascinarlo da questa gente perché faccia conversazione ma lui non vuole conversare riflette Eugène amico di Mortimer sepolto vivo dentro lo schienale della sua sedia dietro alla spalla coperta da una mantellina della matura donzella che ricorre con aria cupa alla coppa di champagne ogni volta che il dottore in chimica offre di riempirgliela e finalmente lo specchio riflette Boots e Brewer altri due cuscinetti imbottiti inseriti fra gli altri commensali contro eventuali incidenti i franzi in casa Venering sono eccellenti senza di che non avrebbero mai nuovi invitati e tutto si svolge alla perfezione Lady Tippins in particolare ha eseguito una serie di esperimenti sulle proprie funzioni digestive così audaci e complicati che se si potessero rendere noti insieme ai risultati la razza umana ne trarrebbe grande vantaggio dopo essersi rifornita nelle cinque parti del mondo questo vecchio e robusto incrociatore ha raggiunto finalmente il poro nord e mentre vengono cambiati i piatti del gelato lascia cadere le seguenti parole io vi assicuro mio caro Venering il povero Twemlof avvicina la mano alla fronte perché ora parrebbe che Lady Tippins stia per diventare la più vecchia amica io vi assicuro mio caro Venering che si tratta di una cosa stranissima non pretendo come fanno gli annunci pubblicitari che voi mi crediate così senza referenze degne di stima Mortimer qui che è al corrente di tutto può essermi garante l'interpellato alza le palpebre cadenti e socchiude le labbra ma un debole sorriso come per dire ma che serve mi passa sul volto dopodiché le palpebre si riabbassano e le labbra si richiudono Mortimer ascoltatemi dice Lady Tippins tamburellando con le stecche del ventaglio verde chiuso sulla mano sinistra che abbonda straordinariamente di nocche io insisto perché voi ci raccontiate tutto quello che sapete sull'uomo che viene dalla Giamaica vi giuro sul mio onore che non ho mai sentito parlare di nessun abitante della Giamaica e si eccetto a quel fratello risponde Mortimer allora di tobago no neppure di tobago eccettuato interviene Eugène così all'improvviso che la matura donzella la quale lo aveva completamente dimenticato trasale e gli toglie la vista della mantellina eccettuato quel nostro amico che per tanto tempo si è nutrito di padding di riso e di colla di pesce finché alla fine per un qualche motivo il medico gli disse qualche cosa d'altro e un cosciotto di montone lo mandò all'altro mondo i commensali tutti hanno la piacevole impressione che Eugène si stia svegliando ma è un'illusione poiché questo si richiude subito in sé ma guardate guardate un poco cara mrs. Van Eyring dice Lady Tippins io vi domando se esiste al mondo un comportamento più vile di questo io porto in giro con me i miei amanti due o tre alla volta a patto che siano obbedienti e devoti ed ecco che il primo di essi il capo dei miei schiavi viene meno al giuramento davanti a tutti e quell'altro pur ora egli è assai rozzo ma nutrivo grandi speranze che col tempo sarebbe migliorato fince di essersi dimenticate le filastrocche di quando era bambino apposta per farmi dispetto perché sa quanto mi piacciono recitare questa orribile commediola a proposito dei suoi adoratori è la mania di Lady Tippins essa si fa sempre accompagnare da due o tre e ne tiene un piccolo elenco in cui cancella il nome di uno vecchio per sostituirlo con uno nuovo segna qualcuno sulla lista nera e promuove un altro a quella azzurra li conta e aggiorna in ogni modo il suo tacquino Mrs. Veneering e il marito sono affascinati da tanto spirito ma forse questo dipende da un qualcosa giallo oro che ondeggia sulla gola di Lady Tippins simile a zampe di gallina razzolante da ora in poi quel miserabile traditore sarà bandito e io lo cancellerò dal mio cupido chiamo così il mio tacquino cara fin da questa notte ma siccome sono decisa a sentire la storia dell'uomo di non so dove sarete voi a chiederla invece mia tesoro rivolta a Mrs. Veneering dal momento che io ho perduto ogni ascendente siete uno spergiuro insulto diretto a Mortimer accompagnato da uno stridio del ventaglio l'uomo di non so dove ci interessa tutti moltissimo osserva Veneering e i quattro cuscinetti facendosi coraggio gridano tutti in coro profondamente appassionatamente drammaticamente forse è l'uomo di nessun luogo e Mrs. Veneering poiché le seducenti moine di Lady Tippins sono contagiose giunge le mani come una bambina supplichevole si volta verso il vicino di sinistra e dice plego per favore l'uomo di non so dove e che i cuscinetti di nuovo misteriosamente mossi tutti e quattro insieme esclamano non potete sottrarvi per l'anima mia dice Mortimer Nanguido trovo estremamente imbarazzante avere gli occhi dell'Europa intera rivolti verso di me l'unica mia consolazione è che voi tutti obbedirete in fondo al cuore di Lady Tippins quando come è inevitabile vi sarete accorti di quanto sia noioso questo uomo di non so dove mi rincresce di distruggerne il fascino romancesco assegnandogli un luogo di residenza ma egli viene da quel luogo di cui mi sfugge il nome ma che verrà in mente a tutti qui dove si fa il vino Dei e Martin suggerisce Usain no risponde Mortimer senza scomporsi Dei e Martin fanno il porto il mio uomo viene dal paese dove si fa il vino del capo del resto vecchio mio non è affatto fondamentale ed è assai strano alla tavola di Venering c'è sempre da notare come nessuno si preoccupi mai dei padroni di casa e come chi ha qualcosa da raccontare si rivolga sempre di preferenza a qualcun altro il nostro uomo Mortimer riprende rivolto a Eugène aveva nome Harmon ed era l'unico figlio di quel vecchio farabutto che si era arricchito con i rifiuti indivisa da spazzino si informa il cupo Eugène e se ti piace anche una scala e un paniere con questi o con altri mezzi egli si arricchì tenendo un'impresa di rifiuti e visse in un buco in un paese fatto di colline di rifiuti nella sua piccola proprietà quel vecchio mascalzone riuscì a creare come un antico vulcano una sua propria catena di montagne la cui formazione geologica era costituita da rifiuti di carbone di verdura di ossa di cocci di triti grezzi e vagliati insomma rifiuti d'ogni genere Mortimer a questo punto si rammenta fuggevolmente dell'esistenza di Mrs. Veneering e rivolge a lei una mezza dozzina di parole dopodiché distoglie di nuovo lo sguardo Sajat Wemblow trova che non risponde e infine si ferma sui cuscinetti che lo accolgono con entusiasmo e senza morale credo che si dica così di questo personaggio esemplare provoca un piacere immenso nel coprire di anatemi i suoi parenti più prossimi e nel cacciarli fuori di casa cominciò come ovvio a prodigare questo genere di attenzioni all'adorata moglie dopodiché ebbe agio di accordare analogo riconoscimento ai diritti della figlia le scelse un marito di completo gradimento per sé ma niente affatto per lei e le assegnò in dote non so quanti rifiuti ma certamente una cifra immensa a questo punto però la povera ragazza fece rispettosamente sapere di essersi in segreto fidanzata con quella figura ben nota chiamata da poeti e romanzieri un altro e che un matrimonio simile le avrebbe fatto a pezzi il cuore e la vita in tal modo partecipando ampiamente al commercio paterno immantinente il venerando genitore la coprì di anatemi e pare in una gelida notte invernale la cacciò di casa ma ecco che il dottore in chimica che evidentemente tiene in ben scarsa considerazione la storia di Mortimer concede ai cucinetti un poco di chiaretto costoro messi nuovamente in moto tutti e quattro insieme da una forza misteriosa se lo fanno scivolare in gola con particolari contorcimenti di volutà mentre esclamano in coro per favore seguitate risorse pecuniarie dell'altro erano come al solito assai limitate io non credo di esagerare dicendo che si trovava al verde tuttavia sposò la fanciulla e vissero in una casa modesta che probabilmente aveva un portico ornato di caprifoglio e vite vergine rampicante finché lei morì per conoscere la vera causa di quella morte dovrete rivolgervi all'ufficiale di stato civile del distretto in cui era situata l'umile dimora ma forse ansie e dispiaceri precoci non vi furono estranei sebbene non compaiono nelle pagine dei registri e nei certificati a stampa all'altro toccò senza dubbio una sorte analoga poiché la perdita della giovane moglie lo colpì a tal punto che certo non le sopravvisse per più di un anno se nella buona società ci si potesse permettere il lusso di provare un'emozione da certi segni si sarebbe indotti a sospettare che l'indolente Mortimer membro della buona società abbia forse la debolezza di lasciarsi commuovere dalla storia che sta narrando questi lati egli li nasconde con grande cura ma esistono anche in lui anche il cupo Eugène non è privo di sentimenti del genere poiché quando la terribile Lady Tippins dichiara che se l'altro non fosse morto lei lo avrebbe collocato al primo posto nella lista dei suoi amanti e anche quando la matura signorina scuote la mantellina ridendo per qualche commento privato e confidenziale rivolto le dal maturo giovanotto la sua malinconia si acuisce a tal punto che si mette a giocherellare ferocemente con il colpello da frutta ma Mortimer prosegue ed ora come dicono i romanziari e noi non vorremmo che dicessero ritorniamo all'uomo di non so dove egli aveva quattordici anni e si trovava in un collegio di secondo ordine a Bruxelles quando avvenne l'espulsione della sorella passò qualche tempo prima che ne fosse informato forse dalla ragazza stessa poiché la madre era già morta ma questo non lo so bene fatto sta che fuggì immediatamente e venne qui doveva essere un ragazzetto pieno di coraggio e di risorse per essere riuscito in questa impresa con cinque soldi alla settimana che non gli pagavano più ma in un modo o nell'altro egli arrivò e si precipitò dal padre per patrocinare la causa della sorella il venerando genitore ricorre immediatamente agli anatemi e lo butta fuori il ragazzo indignato e spaventato fugge va in cerca di fortuna sale su una nave e infine tocca la terra ferma fra le vigne del capo diviene piccolo proprietario colono coltivatore come preferite chiamarlo in questo frangente si ode nel salone uno scalpiccio e qualcuno bussa alla porta della sala da pranzo il dottore in chimica si dirige verso la porta con fabula irritato con l'invisibile intruso pare raddolcirsi ascoltando le ragioni per cui quegli buzzò ed esce venne scoperto solo pochi giorni fa dopo quattordici anni di assenza uno dei cuscinetti improvvisamente stupisce gli altri tre separandosi da loro e afferma la propria individualità chiedendo come è scoperto e perché ah già sicuro grazie per avermelo ricordato muore il venerando genitore il medesimo cuscinetto incoraggiato dal successo ottenuto chiede quando l'altro giorno dieci o dodici mesi fa sempre il medesimo cuscinetto con aria disinvolta indaga di che cosa ma a questo punto un malinconico esempio di coraggio si estingue perché gli altri tre cuscinetti lo osservano con occhi glaciali e nessuno lo degna più della minima attenzione il venerando genitore ripete Mortimer ricordandosi fuggevolmente che a tavola c'è anche un venering e rivolgendosi a lui per la prima volta muore muore fa ecco con voce grave venering riconoscente quindi incrocia le braccia e corruga la fronte per ascoltare il resto come un giudice ma si trova nuovamente abbandonato in questa valle di lacrime trovano il testamento Mortimer prosegue fissando gli occhi da cavallo ad ondolo di Mrs. Podsnap scritto pochissimo tempo dopo la fuga del figlio nel quale egli lascia un vecchio servo unico esecutore testamentario la più bassa fra le montagne di rifiuti con ai piedi una specie di casetta e il resto del patrimonio assai considerevole al figlio da personalmente disposizioni per essere seppellito con certe strane cerimonie e precauzioni non starò ad annoiarvi raccontandovele contro il pericolo di venire sotterrato vivo e questo è tutto eccetto così finisce la narrazione il dottore in chimica ricompara e gli sguardi di tutti si rivolgono verso di lui non già per il piacere di contemplarlo ma per quel sottile istinto naturale che spinge gli uomini ad approfittare della minima occasione per guardare qualsiasi cosa tranne colui che sta rivolgendo loro la parola eccetto una clausola il figlio entrerà in possesso dell'eredità solamente a condizione che sposi una ragazza la quale bambina di quattro o cinque anni al tempo in cui il testamento fu redatto e oggi una signorina da marito